Netta difficoltà non mi sembra, abbiamo un po' sofferto, quello sì. Purtroppo quando sei sotto di uno e anche due gol, come hai detto te, giustamente la punta si schiera in mezzo ai due difensori e loro giocano le ripartenze su lancio lungo. Lui è un gran giocatore, certo non lo dico io, è un giocatore di categoria superiore, ha fatto tanti anni l'A e l'A-B, noi potremmo fare meglio da un punto di vista della marcatura e tutto, però oggi è stata una partita dura fin dall'inizio, bisogna sicuramente far meglio, soprattutto noi da dietro dobbiamo dare più sicurezze al resto della squadra e come ha detto Riccardo, abbiamo la fortuna di ripartire già a martedì e ce la metteremo tutta per prendere quello che abbiamo lasciato oggi.